Voi là, inseriamo il manufatto. Tac! Che è successo a Vladimir? Che è successo, no? L'occhio ha smesso di rispondere, non riesco a parlare con nessuno sulla stazione. Sento aria di guai, mi dirigo lì. La strada è sbocata da nulla. Vladimir, via, via! Se n'è già andato, ha detto che andava alla loggia. Sta veni qua. Stiamo arrivando? Eh, ma se noi se ne andiamo, questo viene qua e si apriva tutti i pezzi. Eh, gli diciamo, o tieni duro, oppure gli diciamo, stanno arrivando le strade, li dobbiamo difendere dalla loggia. Eh, dobbiamo difendere dalla loggia. Eh, però uccidiamo Vladimir così. Vabbè, magari mandiamo qualcuno da lui e noi li difendiamo qua. Boh. Non è che poi non potremo via più i poteri? Perché Vladimir, c'è dicendo, stanno. Che dici? Già tu che faresti? Proteggeresti la loggia, te? Ah, sì. Barrett respira ancora, ma Dio quanto sangue. Pronto, Constellation, ricevete? Chi sei? Cos'hai fatto ai nostri amici? Mi chiamano Cacciatore, adesso che sono qui avete finito di provare a scorgere l'unità. Fermati, non siamo oscili. Sto già andando, Dio a Dio ai tuoi amici, non ci vorrà molto. Non pensare a noi, quel maledetto astrale vuole i manufatti, non lasciare che li prenda. Nascondi la collezione, portala dove non possano trovarla. Ha ragione, dobbiamo trincerarci qui a preparare i manufatti per lo smostamento. Servirà tutto l'aiuto possibile per tenere a bada la strada. E chi è sull'occhio? Non possiamo riuscire lì a morire. Gli lasci il lampo lì. Cioè, se ci andiamo solo noi e loro difendono qua. Certo, in teoria vado io e loro rimangono qua. Eh, dai allora. Non ti piaceremo, ma il tuo aiuto farebbe comodo quando arriverà quella strada. Non so quanto ci vorrà a preparare i manufatti, mi metto subito al lavoro. Difendi la loggia a voi sull'occhio, ma che cazzo rola però. Che fanno? Perché se lo salvi, ok, però se non lo salvi mandi buttato tutto il lavoro perché servivano tutti i pezzi. Ma che merda di scelta! Oddio. Non ci dobbiamo pensare un attimo. Dateci un secondo. Allora ragazzi, dopo una lunga parlantina che abbiamo avuto, no, una lunga comunicazione che abbiamo fatto. Sì, discussione. Abbiamo deciso di approcciare con, eh, fare un salvataggio di emergenza, perché non sappiamo cosa accadrà. E andare a salvare Platymer comunque, perché non possiamo abbandonarlo lì così. Però se dovesse essere salvando Platymer, salviamo al secchio e se quello sappia tutti i manufatti, allora torniamo indietro e uccidiamo Platymer e diciamo. Penso che è un prezzo alto da pagare. Mo capirai, noi sono patta a casa un stocchio, ma... Lui sta nell'orbita del pianeta nostro. Non puoi viaggiare rapidamente da questa posizione, mi dice. Non puoi usci dalla loggia? Mo come uscimo se lo trovo davanti, guarda. Vai, barricarola, guarda quando sarai fuori, non potrò riapirirti. Vado sull'occhio, buona fortuna a tutti quanti. Oh, guarda quanta gente è qua. C'è pure Vasco. Oh, Vasco, ti prego non morire. Guarda che finaccia, eh. Almeno Vasco lo potevamo portare con noi, però. Vabbè, noi siamo... L'altro lui se ne è andato dall'ala astrale. A meno che non ci sta a fare la trappola, eh. Andrei più... Stiamo facendo un salvataggio, eh. Dopo esploriamo. Ma c'era pure Sara. Sara. Oh, grazie a cielo, tu sei bene. Felice che sia bene anche tu. Insomma, non è che sta tanto bene, però vabbè. Me la caperò, vai, prendi di cura degli altri. Andiamo. Oh, là di me, sei vivo? Sei qui, il fantasma di Krix può aspettare. Forza, lascia che ti aiuti. Niente lacrime per i vecchi, preoccupati per gli altri. E che c'è stato venuto a fare qua? Stanno tutti bene. Taci, oh, stai, mi hai fatto perdere solo tempo. Dove stanno l'altro? Né qua. Oh, Andrescia. Lasciala qua. Vai, ma perché ti sta sul cavolo questo raggio? Alzati, dobbiamo prepararci ad andarcene. Non credo di potermi muovere subito, me la carrerò. Vai. Perché non mi fai decidere niente? Perché dai, che rudele. No, sono con lei, che era testa di... Ma non è vero, non ho fatto niente. Ma non è vero, non ho fatto niente. Lui? Guarda, Barrett. Ok, lo ammetto, la mia famosa personalità non è stata di grande aiuto stavolta. Almeno se è ancora tutto in terra, Barrett. Era da tempo che non me la vedevo così brutta, perfino peggio di Vectera. Dai, dobbiamo andare tutti alla loggia. Su. Andiamo. Veloci, veloci. Veloci bene, mortamboli. Riposte che me ci avete fatto, vieni a qua. A fa, qua. Forse tu devi scegliere tra quell'equipaggio e quest'equipaggio che salvare, capito? Dici? Vabbè, tanto Sara, Barrett, Vladimir, quelli che c'eravamo un po' più affezionati. Certo, se c'è me. Il nostro unico, una cosa amorosa. C'è Vasco, eh. C'è Vasco. Ah, mo' possiamo andare alla loggia. Vediamo che è successa alla loggia. Ragà, ragà, mo' è il momento della verità, eh. Tanto mo' troviamo tutti accoppati, enamolati, tranquillo, sta bene, pensa agli altri. Tranquillo, sta bene, pensa agli altri. Cioè, sembrava che stava a morire Barrett, adesso c'è tantissimo sangue. Non ho visto un goccetto, però vabbè. Cori, corri, corri, corri. Tutti morti, guarda. Basta che vivo Vasco. Il resto per me... Darsi che non è arrivato ancora. Ecco. No, lì, così il mio Vasco. Ale, c'è stata una morta per te, era no. Non pregai niente. A quanto pare sono stati giocati solo in modo grave e non critico. Che fortuna. Il fatto che anche tu sia relativamente senza danni è preferibile all'alternativa. O vedi, si è attirato su. C'è un amorente là. No, Sam! È morto Sam, Ale. Niente storia amorosa. Sono sempre giocato. Medicina, i tuoi segni italiani sono... Dai a Medicina. Era il padre, comunque. Ma davvero, raga? Deve esserci qualcosa che posso fare. Ma che sono addio? Ma raga, mi sto senti male. No, Sam... Ma che è sta cagata? E sicuramente se noi abbiamo quell'altra scelta, more uno di quegli altri personaggi. Non lo so. More Barrett, probabilmente, che è quello più grave. Non lo so. Cioè, se me fanno morire o Sara o Sam, cioè, sono i due personaggi insieme a Vasco che se volevamo portare presto. Poi disse Barrett. De Barrett non me ne frega niente. Che fa, Muggio? No, io non posso far morire il padre di questa ragazzina. Ma che schifo è? Dai, no, no. Barrett, devi morire tu. Mi dispiace. Pure Vladimir va bene. Ma aspettare. Tranquilla, bambina. Ci penso io. Ho la soluzione a tutto. Allora, vi abbiamo mostrato... Vi abbiamo mostrato cosa succede se andiamo a salvare Vladimir. E adesso vedremo cosa succede se rimaniamo a proteggere la legge. Lo facciamo solamente per farvi vedere che succede. Non perché vogliamo mantenere vita sempre. Anche, però, è giusto. Così potete scegliere. O che c'è Walter qua? Oh! Eccolo! Sta qua già! Non gli ho posso fare niente. Vabbè, se moro il vecchio non fa niente. Vai, vai, vai! Maledetto! 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 Uccisore di padri! Vai, lessiona! E mamma, sa che so più di uno. Oh, regà, è tostissimo! Le stanno a massacrare. C'è un altro qua! C'è un altro, aspetta, devo usare quelle... Perché quello non ci aiuta? Mi incastro sui tavoli, per Dio! Aspetta! Mamma mia! C'avevamo un'armona che faceva tanti danni? Olio di gomito, ce la puoi fare? Vero, 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 vero. Io credo in te. Tira io le bombazze, continua. Ce n'hai una, vai. Sì, però ci potrebbero pure da una mano, eh. Sto spappolà a capoccia, io sto spappolà. Tre scordi. Oh, venti de sparo. Sono morti? No, mi sa che stanno a spaglierlo. Lo sono scesi di sotto. Vamo a vedere. Questa sembra uguale. Fa culo, giò. Non tocca a nà. Eh, tocca a seguir... Pira dentro sto corridoio, magari. Ah, sono nati di sotto. Per quanto brutta, comunque, è un'altra missione molto avvincente. Molto avvincente, sì. Molto struggente, soprattutto. Perché abbiamo l'ansia che questo è un modale. Mori lo stesso a causa di una scelta che abbiamo fatto noi prima. Forse perché l'abbiamo attaccati? Li abbiamo ignorati? Che abbiamo fatto? Ah, vedi? Stanno scappando. Sono tutti i vini, sono tutti i vini. Vai, vai, scappiamo, ragazzi. Dai, Noelle, tu. Eh, beccori, porco, due. Eh, toccasi qui a lei. È inutile che andiamo avanti. Si è incastrata. Si sono mucchiati. Che cazzo stanno a fare? Dai, si sono mucchiati. L'hanno incastrata. Eh, è appunto. Spanco la camoccia. Ragazzi, si sono incastrati. Sparare, magari si spostano. Ne fatevi. Sì, ecco. Sei partita? Tu vuoi dar via come la corsa, capito? Via! Mannaggia. Allora. La trota. Abbiamo Noelle che è in testa. La mia stessa scattante ha iniziato con vantaggio. No, mi hanno flaccata malissimo. I suoi compagni avevano cercato di flaccarla, ma lei continua la corsa. Chi so, qui? Vai, 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 vai. Scappa. Cioè, copri il fuoco mentre loro passano. Poi corri dietro a loro. Ma questi sono studentissimi, ragazzi. Ma qui c'è pure un attimo a destra. Che cazzo vuol dire? Ci sono tre colpi, c'ho. La gente che strilla, madonna. Ma che è sta missione, ragazzi? Molto realistica. Vasco, scappa! Solo Vasco c'è rimasto da una mano. Grande. Grazie, ma guarda quante cariche di vita c'ha. Alza, è tossiccino. Aspetta. Vai Vasco, tagli i carci come si fa tu. Però se si levasse, Vasco. Non so, Led, aiuta a tenerlo lontano comunque. Ma non voglio che muori, Vasco, perché... Dove va questa mani nude? Va, sta meno a Vasco. Invece di meno a... Perché è quello meno a Vasco? Oh, ma sei appazzito? Quello è The Constellation. Lo so che è The Constellation. Ma è passato al nemico? No, ti ero abbagato a cazzo, proprio... Regà, sono troppo tossi sti nemici. Guarda che te l'hanno messo all'angolino. Proprio. È scappato, via. Continuiamo la corsa. Sam, vieni! Ma regà, ma... Cioè, che missionona? C'è gente che è morta, però... Con la mano nella... Ho capito. Eccolo! Ma io si rifà la vita! E tirala! Beh, sono esplose male. Vabbè, ma provo a scapparmi solo a lui. Sì, sì, l'altro non gli tocca a menà, perché non gli scende la vita. Oh, non possiamo combatterci contro, l'avete visto? Sono tostissimi. Cioè, a quello io sparavo sempre qua, gli moriva. Sono pure senza colpi. Ah, eccoli. Babbina, corri! Ti fa passeggiata, ragazzi. Sì, no. Dobbiamo, dobbiamo... Dobbiamo, dobbiamo... Cioè, questi stanno a fare lo sterminio de' massa. Adesso è grassa senza ossigeno, corpo, corpo. Tutti sulla nave! Poi ci dobbiamo combattere anche via aerea? Sicuro. Almeno che, non so se l'hai già detto tu perché stavo concentrata, il cacciatore non si sdoppia. Dobbiamo rischiare, forse hanno bisogno di aiuto. O comunque è un bel colpo di scena questo, perché erano aspettato che questi arrivassero così. Eccoli. 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 Gli arroppiamo la nave. Devo ammettere che è stato interessante. Mi chiedo dove andrete adesso con l'armilla. A proposito, raramente vengo scolpito in battaglia. Sono colpito. Credo che meriti una ricompensa. Ma che... Pensavo di averti ucciso, invece non muori mai. La villa è questo che sono i manufatti? Ride. Non abbiamo niente contro gli astrali. Perché lo stai facendo? Sto semplicemente percorrendo la via più breve verso la mia destinazione. Ma ora credo che me la prenderò comoda. Voglio godermi la via più lunga. Pensavo di averti ucciso. Nel caso tu non l'abbia notato, posso muovermi senza farmi vedere. Anche se ammetto che la ritirata è un'umilazione alla quale non ero abituato. Dovrebbe riempirti d'orgoglio. C'è un motivo più grande per tutto questo. Il tuo ruolo potrebbe essere più importante di quanto pensassi. Errore mio. Continuo a raccogliere i manufatti. Ci rivedremo. Forse riuscirete a scorgere l'unità. Ah, quindi io sicuramente sono la chiave per qualcosa anche per loro. Dove dobbiamo andare? Non so capire niente. Ah, dobbiamo andare sull'occhio. Vede che è successo. No? Vai alle missioni per prima. Andiamo prima alle missioni. Io non capisco ancora perché ho la taglia, però va benissimo. Vai sull'occhio. Mo scoprimo se Sara è morta. Dici Sara? Cioè, raga, io sinceramente tra Sam e Sara mi sta più simpatica Sara, eh. Non so a te, Giorgia. Cioè, con Sara abbiamo iniziato il nostro viaggio, non possiamo... Lo so, però io non ricaricherei questa pappa. Tata, tata, se state prima all'emozione. Trova tutti, eh. È morto Barrett? Mi dispiace così tanto Barrett. Noi troveremo tutti i manufatti E abbiamo tirato di niente Risolveremo questo mistero lo giuro Se n'è andato Non può essere vero No non hai fatto la scelta sbagliata È morto Sam Ok Senti ragazzi in base a chi siete più affezionati Decidete voi chi salvare Adesso sapete chi muore Di certo Barret non c'era affezionato nessuno Beh non è detto Beh quello è stupito Vabbè questo l'avete già visto Quindi saltiamo tutto Vladimir oh grazie al cielo Dov'è Barret? Ce l'avevi vicino lì spiaccicato a terra No 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 Basta scende così strazianti C'era un flirt tra loro? Non lo so Non credo Dobbiamo trovare un posto dove andare L'alloggio e l'occhio non sono sicuri Il cacciatore ha detto che ci avrebbe lasciato strade Sì però comunque possono tornare in qualsiasi momento Quindi Forse è la seconda Dici bene Il cacciatore probabilmente ci ha trovato perché siamo in un luogo ovvio Una zona densamente popolata Proprio come la prima volta gli astrali vi hanno trovato nell'orbita di Neon Ma il fatto che competano con noi per trovare i manufatti significa che anche loro devono cercarli Allora nascondiamo i manufatti da qualche parte in frontiera o su qualcosa che possa sfuggire alle loro pensi e se ci attaccheranno ancora dall'ombra Possiamo tenere le danni sulla mia nave Posso costruire un avamposto Con sistemi difensivi Forse questo è il meglio Costruisci i muri a spese Nel caso gli astrali avessero fortuna arrivassero a sediarti Ecco tieni sicuri mani fatti Immagino che ci rivedremo alla loggia Ma come abbiamo detto che non è sicura Alla loggia vabbè Poi che fanno l'avamposto lasciamo i pezzi là e se ne andiamo Ora puoi costruire l'armilla sulla tua nave o nei tuoi avamposti Per costruire l'armilla sulla tua nave regati presso un nuovo schermo armilla all'interno dell'abitacolo Per costruire l'armilla in uno dei tuoi avamposti raggiunti un avamposto e passa la modalità costruzione All'interno troverai una categoria missione con l'armilla Non so ancora che cos'è l'armilla però vabbè Sono quei pezzi Ok Comunque ragazzi io direi che possiamo finire qui Questa è struggente Struggente Vi abbiamo fatto vedere tutte e due le possibilità Ma l'abbiamo fatto principalmente per noi Perché non volevamo che morisse Sam Che è l'unico personaggio che insomma ci sta interessando a livello romanzabile Anche Sara però non andava bene se moriva Soprattutto Pasqua Comunque come al solito vi invitiamo a lasciare un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale che è per noi importante E da Ciao E Ale È tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao